FSP pretende dignità per i poliziotti. Aspettando il taser aumenta la violenza contro le divise. Le sperimentazioni eterne. Bodycam, altro parere del garante a sette anni dal primo. Tutte le polemiche che si sono innescate in maniera conseguente, additando ovviamente la colpa del mancato intervento alla polizia ma non a chi ci dirige. Bene, parliamo del Green Pass quindi perché dopo la circolare ovverosia l'inversione a U che il Viminale ha fatto su pressione del Governo non consentendo ai poliziotti che non sono in possesso del Green Pass di accedere alla mensa di servizio che non sono esattamente dei ristoranti, lo ricordiamo a tutti. FSP Polizia ha scritto immediatamente al Ministro dell'Interno, non solo perché la divisione sul Green Pass riguarda scelte personali, chi si è vaccinato, chi non lo può fare, chi non ha altre alternative, ma soprattutto perché non c'è stato alcun tipo di coinvolgimento con le organizzazioni sindacali della Polizia di Stato, soprattutto perché non c'è stata alcuna organizzazione a livello periferico scaricando sui dirigenti singoli l'onere di evitare quelle immagini che poi vedremo di poliziotti seduti sui gradini fuori dalle mense che appoggiano i vassoi sulle auto o che si riparano sotto il calore di questa estate in cortili, mangiando praticamente per terra. Questo non è accettabile perché il lavoro che fa la Polizia di Stato e le altre forze di Polizia è invece tutt'altro. Dallo stare in volante con un altro collega o nel furgone del rapporto mobile, se vogliamo rimanere all'interno dell'amministrazione della Polizia di Stato, a tutto quello che accade, risse, accoltellamenti, tentativi di omicidio e tutto quello che ci troviamo ad affrontare in ogni ora di servizio che Dio manda in terra. E quindi ci troviamo a dover necessariamente prendere una posizione che non va né contro né a favore di chi fa il vaccino, ma va nel rispetto della dignità dei poliziotti italiani. La nostra lettera è inviata immediatamente al Ministro e alle proteste che ne sono seguite, è stata ripresa ampiamente anche dalla stampa, unitamente ad altre posizioni che sono state espresse su questo punto. Però quello che vogliamo ricordarvi è che indipendentemente dal fatto che una persona si sia vaccinata o meno, la dignità non deve mai mancare. E su questo FSP Polizia di Stato non può e non deve transigere. Sono numerose le iniziative che diverse segreterie provinciali dell'FSP hanno messo in campo dinanzi alle scene dei poliziotti costretti a mangiare all'aperto, in un intervento anche tra gli altri del sottosegretario all'interno e dell'On. Nicola Molteni, già ospite anche del nostro convegno e del Congresso Nazionale dell'FSP Polizia, che ha ricordato come è un controsenso costringere i poliziotti a mangiare fuori dalle mense ma poi farli fare servizio contemporaneamente in volante Green Pass o meno o, come dicevamo, all'interno dei furgoni delle parti mobili. Un controsenso che deve essere al più presto ripianato per restituire una logica e una programmazione che consenta ai poliziotti di fruire della mensa obbligatoria di servizio ma soprattutto di mantenere intatta la propria dignità. La stazione ferroviaria di Cairo Montenotte, in provincia di Savona, un gruppo di marocchini scende dal treno che proveniva da Torino e comincia a infastidire i clienti del bar della stazione. Una patruglia di carabinieri si avvicina e dopo una richiesta di esibizione dei documenti uno dei due carabinieri viene aggredito, disarmato e il cittadino marocchino impugna l'arma, scarrella e spara, mancando il carabiniere. Si saprà anche che era evaso dagli arresti domiciliari. Altro scenario, una patruglia del Polizia di Frontiera di Luino, in servizio in provincia di Varese, quindi il confine con la Svizzera, avvicina un cittadino con una borsa in mano, questo estrae un coltello da cucina e aggredisce uno dei due componenti della patruglia, una ragazza che viene scaraventata a terra, poi rivolge il coltello verso l'altro collega che estrae la pistola d'ordinanza e spara un colpo ferendolo all'addome. Si accettano scommesse, su quale delle due notizie sentirete nei prossimi giorni? Perché ovviamente un poliziotto che spara fa molta più notizia, come termine insegna, di un poliziotto che viene aggredito a coltellate, come è accaduto a Genova e come è successo purtroppo in quest'estate, di risse e di continue liti violentissime tra ragazzi italiani e non. La Polizia di Stato, l'Arma dei Carabinieri, tutti i servizi di controllo del territorio pagano un prezzo altissimo quotidianamente fatto di ingressi nel pronto secorso, di lesioni e di guarigioni che purtroppo si allungano con i tempi, ma altrettanto non fanno le condanne della giustizia nei confronti degli aggressori. Il garante per la protezione d'agio e personale si è espresso favorevolmente all'utilizzo delle microcamere o bodycam sulle divise degli operatori impiegati nelle operazioni di ordine e sicurezza pubblica. Non state guardando un TG del 2014, perché questo era il primo parere che era stato richiesto, ma è l'esito di una nota inviata dal garante al Ministero dell'Interno il 22 luglio del 2021, di cui si è avuta notizia nella scorsa settimana, una battaglia che FSP e Polizia ha portato avanti da tempo, ma vediamo quali sono i paletti nuovi che sono stati messi, perché è cambiato ovviamente l'architettura e l'evoluzione tecnologica delle telecamere stesse. Quindi non oltre sei mesi può essere mantenuta la copia. Le copie potranno essere quindi utilizzate solo a livello centrale, con collegamenti da remoto attraverso i gabinetti di polizia scientifica ed alcune altre postazioni, ma soprattutto l'ordine di attivare la telecamera dovrà essere dato dall'ufficiale di pubblica sicurezza presente sul posto o, estrema razio, dal capo squadra e altrettanto dovrà essere fatto con lo spegnimento della telecamera, che dovrà essere sempre ordinato dall'ufficiale di pubblica sicurezza o dal capo squadra. Cose che cozzano abbastanza con la realtà operativa con cui ci troviamo ad operare quotidianamente. Comunque dopo sette anni quella sperimentazione delle bodycam forse ha fatto un nuovo passo avanti. Certamente FSP Polizia, che è intervenuta più volte a favore di questo strumento, non attenderà oltre perché questo è un altro di quelli strumenti che ci servono per lavorare tanto quanto il taser. Grazie a tutti. Un argomento che ha suscitato moltissimo interesse. Tra i colleghi appena è stata emanata la prima circolare, parliamo del corso di alta formazione modalità e learning, lo spazio transmediterraneo e il mondo islamico, l'integrazione negli spazi pubblici. Molto interesse è una specifica che il Dipartimento ha fatto mantenendo la data possibile per l'iscrizione online appunto al corso, al 31 agosto è stato specificato che potranno accedervi coloro che sono in possesso di una laurea triennale e quindi un primo ciclo di studi universitari. Il testo completo della circolare sul nostro sito internet. Vediamo volentieri spazio all'iniziativa della Polizia di Stato, il calendario per l'anno 2022 che è stato realizzato con gli scatti effettuati da colleghi, quindi un punto di vista diverso rispetto a quello a cui siamo abituati, un punto di vista dall'interno dell'attività della Polizia di Stato. Anche quest'anno si rinnova la partnership con l'Unicef e i ricavati del calendario, il cui costo è 8 euro per la versione a parete e 6 euro per la versione da tavolo, sono devoluti all'Unicef Italia che finanzia il progetto COVAX per l'accesso per i bambini poveri alle vaccinazioni e una parte per il piano Marco Valerio, indispensabile per i moltissimi colleghi che si trovano in situazioni di figli con handicap gravi. Quindi un'iniziativa pregevole. Il calendario è prenotabile presso di urpe della questura una volta effettuato il versamento fino al 23 settembre. Grazie per aver seguito anche oggi FSP TG News, grazie per condividere questo nostro telegiornale sui vostri canali social, le nostre segreterie provinciali continuano a farlo e quindi vi ringraziamo perché così riusciamo a raggiungere tantissimi colleghi che sono a lavoro, che sono in vacanze, che come FSP Polizia non si fermano mai, la Polizia non si ferma mai, sempre presente purtroppo anche al centro di polemiche inutili come quelle che abbiamo vissuto anche in queste giornate. Ma la sicurezza non si addormenta mai e nemmeno FSP Polizia sempre presente e vicina alle problematiche dei colleghi che si afferra agosto oppure no. Quindi noi torneremo puntuali anche la prossima settimana per aggiornarvi su tutte le attività e per aggiornarvi sulle novità del mondo sindacale della Polizia di Stato e di quanto fa FSP Polizia per tutti voi. Grazie e arrivederci. Grazie. Grazie.